La maccia appoggia per Tomassini, ben appostato pochi metri fuori dall'aria, che con una fantastica parabola a giro supera Scorteccia. Massa Martana 0, Villa Biagio 1. Nofri Nofri inventa un passaggio volante per Tomassini, che non ci pensa due volte e di pura potenza trafigge Scorteccia. Massa Martana 0, Villa Biagio 2. Nofri Nofri si invola in area di ricore, potrebbe calciare ma preferisce invece appoggiarla dietro sempre per il solito Tomassini, che da lì non può di certo sbagliare, realizzando così la sua personale tripletta. Il gol arriva al 35esimo, quando Tomassini si conferma l'Iguain dell'eccellenza, piazzandola così nell'angolino alla sinistra di Morrone. Tomassini cerca e trova Goretti, che in girata veste i panni del bomber e timbra il raddoppio. Cross di tre quattrini, si inserisce l'ex Gramaccia che devia di testa le spalle di Rocci. Guaglia a svegliare Tomassini che dorme, perché al 31esimo il puntero insacca così di testa sull'assist dalla destra di Belli. Per l'1-0 del Villa Biagio, dagli 11 metri, va proprio il capocannoniere del campionato, che sale a quota 6 in classifica a marcatori. Al 48esimo, un bel traversone dalla fascia destra, trova Porricelli, che di testa mette alle spalle di Becci, per l'1-0 ospite. Dal dischetto, Tomassini porta in vantaggio i locali, realizzando il gol dell'1-0. Rigore, che lo stesso Tomassini realizza per il 2-0. 49esimo, Tomassini in mezzo per Belli, che porta a tre le reti per i locali. Al dodicesimo, bella girata di Porricelli, che si infila imparabilmente alle spalle di Paolucci, per l'1-0 del Villa Biagio. Ciurnelli per Belli, che entra in area e porta a due le reti per i locali. Al quarto minuto, Ciurnelli riceve da Agostini e porta a tre le reti per i locali. Rigore, che lo stesso Tomassini trasforma, Porricelli offre una gran palla a Tomassini, che da sottomisura porta a cinque le reti per i locali. Dagli 11 metri va uno dei tanti ex in campo, Tomassini che spiazza Palanca e firma l'1-0. Dagli 11 metri va ancora Tomassini, doppietta personale, gol numero 12 in campionato e Villa Biagio sul 2-1. Tomassini si accende sulla destra, palla in mezzo per Porricelli, che si libera in un fazzoletto e batte Magrini. Piovente in aria, Porricelli la spizza, Gramaccia è al posto giusto e col destro mette in rete. Villa Biagio 1, Gualdo Casa Castalda 0. Villa Biagio ristabilisce la situazione grazie a Belli, che dopo uno scambio con Tomassini, fredda De Marco con un tiro di interno destro che accarezza il palo più lontano per poi finire in fondo alla rete. E' una combinata a Tomassini-Belli, che crossa per la corrente Cristian Ciurnelli, che di testa mette in fondo alla rete. E sotto misura, Gabriele Moretti trova quel gol, a lungo inseguito dalla formazione di Guastalvino. C'è un tiro di Belli, il portiere spinge con l'aiuto della traversa, doppia ribattuta, ma il tapin vincente è di Goretti, che gonfia le rete alle spalle di Kunzi. Villa Biagio 1, Narnese 0. Sul dischetto si porta Gardarelli e realizza il gol che vale il 2-0. Tre quattrini, scodella e mezzo, lo stesso Porricelli non si fa pregare, e con un pregevole sinistro al volo batte Scorteccia, che aveva tentato in vano l'intervento in tuffo. Villa Biagio 1, Massa Martana 0. E proprio Goretti trova questa volta il gol. Ennesimo traversone di Nofri Nofri, palla che arriva al centrocampista locale, che da pochi passi non può sbagliare. Villa Biagio 2, Massa Martana 1. Secondo Giallo è il rigore che Porricelli trasforma. Gaini veste i panni dell'uomo assist con un'imbucata perfetta per Porricelli, che brucia Mame e supera Mazzoni con un pallonetto da applausi. Sesto gol in campionato per Porricelli e Villa Biagio sul 2-0. Tre minuti più tardi, ecco il pareggio del Villa Biagio. Sugli sviluppi di una punizione, la linea giallorossa sbaglia l'uscita, lasciando in gioco Goretti, che in fila di Prisco. Cardarelli approfitta di un errore di raspa, salta Morrone e deposita in rete. Al trentacinquesimo. Il gol è rinviato solo di qualche minuto. Al trentaquattresimo, dopo una serie di tre interventi prodigiosi di Morrone, Leonardo Agostini da pochi passi mette dentro. Al diciassettesimo è infatti Porricelli a sfruttare al massimo un calcio di punizione dal limite dell'aria, con la sua conclusione che batte Becci, sorpreso sul proprio palo. Punizione di tre quattrini e colpo di testa di Cenerini, imprendibile per Marioneschi. Castel del piano 1, Villa Biagio 1. Dagli undici metri lo stesso Cardarelli non sbaglia. Sesto centro stagionale, Villa Biagio sul 1-0. Un minuto però e il raddoppio arriva e porta la firma di Tomassini, con un gol proprio alla Tomassini, sinistro che non fa sconti, Villa Biagio sul 2-0 e Tomassini che sale a 4-13 in classifica a marcatori. Cross sporcato dalla destra di Gramaccia, incornata da bomber di razza di Alessio Giurnelli in proiezione offensiva. E l'1-0 è servito. Disimpegno di Brugnonetti che concede terreno a Belli, libero di andare in porta prima della conclusione deviata, sottoporta da Porricelli. La quarantottesimo, Cardarelli discende sulla destra, mette al centro e Gramaccia sigla il definitivo 2-0. Angolo dalla destra di Tomassini, Stoppini sbaglia clamorosamente, il tempo dell'uscita, Goretti ringrazia e appoggia in rete. Sesto gol in campionato per il centrocampista, 1-0 Villa Biagio e gara subito in salita per la Voluntas. Dal dischetto va Alessio Cardarelli che con un tiro forte e teso porta in vantaggio la sua squadra. Tomassini gioca un bel pallone, poi lo mette in mezzo per la corrente Cristian Ciurnelli che di prima intenzione mette in fondo alla rete. Poi al quarantanovesimo il gol che vale la promozione, angolo dalla destra di Belli, girata da puntero di Cenerini per il più classico dei gol dell'ex che firma l'1-1 che alla fine va bene ad entrambi.